VACANZA AL PRIMO GIONO La macchina sembra un forno Se avresti l'aria condizionata Non avrei la sensazione di un pollo Amici qua top con i moderni L'estate si balla, eccoli qua Sono carichi, sono una molla Sono la musica dell'estate La musica che sballa Se volevi fare la rima, baciata Esatto, sapete benissimo che io e Celeste ci vogliamo bene da morire Lui è Plascio, lui è fratello Poi c'è Marco C'è Marco Che c'è l'origine calabesi Poi c'è Fabio Se hai capito mai che fa Però è un attore E poi ovviamente c'è Di Querelo Un album nuovo Anche su un panorama attuale che è diverso Come si piazzano i moderni su questo? Beh, diciamo Intanto è il nostro primo CD Quindi come dire Siamo del tutto novelli Non neofiti da questo punto di vista Siamo messi insieme da anche un anno Ed è già arrivato il primo CD Siamo entusiasti I Two Fingers hanno voluto sposare il nostro stile E noi il loro Si piazzano Si piazzano bene Siamo quarto sui Toons adesso Si piazzano abbastanza bene È un CD veramente molto vario Posso dire questo Che è un CD veramente che non ha una traccia uguale all'altra E che ci piace molto Aver interpretato il fatto Perché in ognuna di queste canzoni Ci sono un po' di noi Un po' di noi anche I nostri gusti personali soprattutto Perché anche facendo dance, rap, pop Diciamo Abbiamo anche saputo In qualche modo Assemblare Solonità anni 60, anni 70 Solonità un po' balcaniche Un po' Un po' Quello che ci piace A noi Questa roba qua Ci è gusta Quella La faccina Quella Il meme Fabio Tanti generi Ma uno stile unico È quello dei moderni Oddio Parlare di stile dei moderni Mi sembra un po' prematuro Dice Sì Tutta l'ora Il nostro stile Sai cos'è? Che abbiamo troppo Stile Cioè Ma cosa parliamo No No Diciamo che per il momento Noi siamo anche Ancora in fase di ricerca Cioè per adesso Noi ci siamo fatti Contaminare le nostre sensazioni Tutto quello che c'è qua dentro Siamo veramente noi Poi magari un giorno Beccheremo anche un filone Che proprio diciamo Questo è il sound moderni Però per il momento Vogliamo ancora concentrerci La libertà di dire Adesso facciamo quello che ci piace Poi un giorno Quando troveremo proprio Come dire Il che Quello sarà lo stile moderno Ma ve ne accorgerete Anche Marco parla In cerca di stile Sono questi Sì esatto Questi moderni Parlo da quando avevo due anni E Vabbè Non niente Sì No In cerca di stile Vabbè Insomma Il primo Primo CD Quindi Ovviamente Queste sonorità Che abbiamo preso Saranno approfondite Varieranno Bisogna provare a vedere Dove Questa mescolanza di generi Di ecletticità del gruppo Ci porterà Quindi Work in progress Insomma Perché una persona Dovrebbe acquistare Il vostro CD Ecco Una persona Dovrebbe acquistare Il vostro CD Perché C'è una sferzata Di energia C'è La sensazione Di non ripetersi Perché È divertente Perché È anche Commovente Perché dentro Ci sono anche Degli intro E degli outro Che abbiamo appunto Abbiamo proprio pensato Per Per il pubblico Per la gente Che ci ascolterà A livello anche un po' teatrale Con battute di riferimento Al pezzo Che viene O a quello che è appena passato Ci siamo divertiti C'è gran parte di noi Qui dentro Ed è un modo Per stare up Tutta l'estate Poi a settembre si vede Magari Veniamo fuori Con un'altra cosa Amici di Vivo Top Le storie si balla I moderni Abbiamo Teniamo Teniamo Perché va benissimo Con questo entusiasmo Amici di Vivo Amici di Vivo Ti vuoi stendere Tutta la mamma Alla stessa Non solo in tv Lo vedi Quando vuoi tu Ti vuoi stendere